Cari concittadine, cari concittadini, buongiorno a tutti. Anche oggi siamo qui per il consueto aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Allora, non siamo aumentati come casi positivi sul nostro territorio, siamo sempre a 32, fortunatamente, questa è la notizia positiva. Altra notizia positiva è che già qualche concittadino è uscito bene dalla quarantena con tampone negativo, quindi cominciano le prime guarigioni, ma in me purtroppo vi devo dare anche una notizia negativa. Purtroppo vi devo comunicare che abbiamo i primi due concittadini che sono deceduti in questa emergenza. Con questa maledetta epidemia ci stringiamo come comunità vicino alle famiglie e proprio stamattina ho personalmente telefonato ai familiari per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia in questo tristissimo momento e ho fatto ai familiari le condoglianze a nome di tutta la comunità sanbredittina. Vi siamo vicini. Poi, notizia positiva, continuano le azioni di solidarietà da parte di molti concittadini. Grazie, grazie tanto, siete splendidi. Come sempre, nel momento del bisogno diamo dimostrazione di essere una comunità fortemente coesa. E questo deve far piacere a tutti. Mi è giunta la notizia che la squadra di calcio Amatori Area Feste 35, insieme a tutte le squadre partecipanti al campionato Over 35, hanno donato una cospicua somma di denaro alla Croce Verde di Mantua. Questi angeli custodi in prima linea, in prima linea in questa emergenza, quindi la Croce Verde come la Croce Bianca come tutti questi angeli che continuamente lavorano giorno e notte a favore del bisogno perché oggi c'è veramente bisogno. Quindi grazie, grazie ancora, così come un grande grazie di cuore va a tutti quei concittadini che continuano a versare aiuti economici con erogazioni liberali sul conto corrente del Comune. Siamo già arrivati a quota 2.200 euro di erogazioni liberali destinati a favore del bisogno e vi garantisco che in questo periodo del bisogno c'è tanto e di tutti i tipi. Quindi grazie, grazie ancora. Poi parliamo di mascherine. Per quanto riguarda le mascherine che Regione Lombardia ha messo a disposizione ieri avete sentito tutti le dichiarazioni del Presidente di Regione Lombardia Fontana saranno distribuite 3.300.000 mascherine ai cittadini lombardi, alle farmacie, alle banche, ai supermercati, ai tabaccai, agli uffici postali. Di questi 3.300.000 mascherine a Mantua ne sono arrivate stanotte presso la sede del Club Virgiliano 110.000 per la popolazione e una certa quantità per la Polizia Locale e per i volontari di protezione civile. Il Presidente della provincia, Beniamino Morselli, ci ha appena comunicato che queste 110.000 mascherine saranno distribuite in percentuale rispetto al numero di abitanti di ogni comune e a noi ne dovrebbero arrivare circa 1.800 che poi cominceremo a distribuire porta a porta nella cassetta della posta, nella cassetta delle lettere a tutte le famiglie, così potete stare a casa tranquilli perché le mascherine arriveranno al vostro domicilio. Probabilmente domani saranno pronte, poi le andremo a prendere e cominceremo la distribuzione porta a porta e poi domani vi aggiorno. Continuano anche le erogazioni di buoni spesa, ci sono diverse telefonate per i moduli e quindi ribadisco che i moduli si possono scaricare dal nostro sito e altrimenti se non riuscite potete telefonare allo 0376 62 30 83 oppure allo 0376 62 30 80 tutte le mattine dalle 9 alle 12 e vi sarà, poi vi mettete d'accordo, magari il modulo cartaceo lo potete venire a prendere qui in comune. Stamattina ho visto parecchia gente in giro, non abbassiamo la guardia, non pensiamo perché c'è una fase, siamo arrivati, non siamo più in crescita con i numeri, non pensiamo di essere titolati ad andare in giro più di tanto se non per necessità perché ripeto soprattutto nel nostro paese c'è una forte circolazione virale e quindi siamo fortemente esposti e siamo esposti noi ma soprattutto sono esposti i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri anziani che sono a casa perché rischiamo di portare questo maledetto virus a casa. Quindi vi invito ancora a seguire le regole con scrupolosità. Cari concittadini vogliamoci bene, vogliamo bene al prossimo, continuiamo a tenere duro perché sicuramente è una lotta che vinceremo e vinceremo tutti insieme grazie ai nostri comportamenti virtuosi. Io vi saluto, vi abbraccio tanto tanto tanto, un caloroso saluto da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale, da parte di tutti i consiglieri, vi siamo vicini, seguite le regole che ce la faremo. Teniamo duro, un abbraccio a tutti, ci aggiorniamo domani. Grazie a tutti.